Sei mesi di laboratori e incontri aperti per pensare insieme la città e renderla più facile e fruibile. Comincia così il complesso percorso di progettazione e discussione, presentato oggi dal sindaco Claudio Pedrotti e dall'assessore all'urbanistica Martina Toffolo, che porterà entro il 2015 al nuovo piano regolatore di Pordenone. Abbiamo predisposto un progetto molto ambizioso, perché abbiamo intenzione di lavorare sul livello della sostenibilità come presupposto del nuovo piano regolatore. Vogliamo che il nostro ambiente, il nostro territorio sia il vero protagonista e i protagonisti insieme a lui devono essere i cittadini e quindi il percorso di partecipazione inizierà ancora prima di definire le direttive del piano regolatore. In realtà il modo in cui andremo a presentare questo piano regolatore riguarda anche il contesto più generale della città. La città deve diventare, come abbiamo dato come piccolo claim, dal punto di vista pubblicitario, vogliamo che la città diventi più facile. Più facile per che cosa? Più facile per muoversi, più facile per avere i servizi, più facile per incontrarsi, più facile per svolgere la nostra attività quotidiana, più facile per andare a scuola. Ecco, alla fine i punti di partenza sembrano elementari. Lo svolgimento dei temi per arrivare a questa maggiore facilità esigono una progettazione che sarà interessante capire nei vari passi che cosa ci darà e che comprende anche il piano regolatore perché poi il piano regolatore si deve adattare ad un modello che deve essere più facile per tutti noi. Grazie. Grazie a tutti.